Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti e belle brutte, bentornati in questo nuovissimo video sul canale, siamo qui ritornati per recensire un software, si tratta di Tenoshay Rayboot C'è sia una versione gratuita che è una versione pro che è possibile acquistare, noi andremo a vedere la versione gratuita E cosa permette di fare questo programma? Permette principalmente di entrare con un singolo click nella modalità di recupero, ovvero nella recovery mode del vostro iPhone E di uscire con un singolo click dalla modalità di recupero, in questo modo vi evitate di eseguire tutti quei passaggi, clicca per 10 secondi il tasto di accensione, lascia il tasto più del volume O comunque in ogni caso quelle procedure un po' noiose, quindi vi permette di evitare tutto questo e di entrare con un singolo click nella recovery mode Oltre a questo permette di correggere il nostro iPhone da un problema che non possiamo identificare, quale può essere praticamente l'iPhone bloccato nel logo della mela L'accensione, lo schermo nero dell'iPhone, uno schermo bianco oppure un bug dell'iPhone o qualsiasi Permette quindi di correggere il nostro iPhone e di riparare 150 e più problemi del nostro sistema iOS Permette di ripristinare anche il nostro sistema operativo iOS o iPadOS senza perdere dati in caso venga danneggiato il nostro sistema operativo Quindi permette di fare davvero tantissime cose in maniera in parte gratuita, per esempio entrare e uscire dalla modalità di recovery mode è disponibile nella versione gratuita Quindi potete installare il programma se questo è il vostro obiettivo Quindi ragazzi noi andiamo a cliccare su download gratis e ci vediamo all'interno del programma Altra cosa che volevo dirvi è disponibile anche per Mac, sia per Windows che per Mac, quindi state tranquilli Allora ragazzi questo è praticamente il programma, io ho collegato in questo momento il mio iPhone X al computer tramite ovviamente cavo USB Permette di fare queste due cose, ovvero entrare in modalità di recupero con un singolo click In questo momento il mio iPhone sta entrando nella modalità di recupero In questo momento si è scollegato il mio dispositivo Ecco, in questo caso adesso il mio iPhone è entrato nella modalità di recupero E per uscire dalla modalità di recupero basterebbe cliccare su esci dalle modalità di recupero Ecco qua che l'iPhone si è scollegato nuovamente dal computer perché si sta riavviando In questo momento l'iPhone è uscito dalla modalità di recupero come abbiamo visto qua E si sta praticamente avviando Clicchiamo su annulla Vedremo che appunto con un singolo click siamo riusciti ad entrare e ad uscire dalla modalità di recupero Ovvero dalla recovery mode Ecco qui che l'iPhone si è appena accesso Come vedete mi india che l'iPhone è stato ricollegato al computer Quindi la procedura è andata a buon fine Ovviamente con questa procedura non abbiamo perso nessun dato Dopo avremo anche questa opzione ovvero ripara sistema operativo Che permette di andare a correggere il sistema operativo del nostro dispositivo iOS Andando per esempio a reinstallare il firmware del sistema operativo E andare praticamente a reinstallarlo nel nostro smartphone Quindi davvero davvero semplice come metodo Il principale scopo di questo programma secondo me è quello di evitare quelle procedure Che potrebbero causare problemi nell'andare a portare il dispositivo nella modalità di recupero Perché mettendo caso voi non abbiate un iPhone X ma avete un iPhone 7 Plus Un iPhone 8 Lì abbiamo il tasto fisico Cioè non sarebbe proprio un tasto fisico Però c'è il tasto Home E quel tasto Home diciamo dà un po' di complicazioni Per far entrare il dispositivo nella modalità di recupero Quindi questo programma è davvero utilissimo per farlo Ragazzi ovviamente mi invita a scaricare il programma dal link in descrizione Anche per chi volesse comprarlo direttamente Ovvero per chi volesse acquistare la versione Pro Esiste un coupon code del 30% che mi hanno fornito Che vi permette di risparmiare Coupon code in descrizione mi raccomando Oltre a questo il link per scaricare il programma l'ho trovato ovviamente in descrizione E anche per partecipare a un giveaway Questa azienda Tenorshare vi darà la possibilità di entrare in un giveaway Dove potrete vincere una licenza gratuita per utilizzare Rayput Tenorshare in maniera completamente gratuita Ecco Io quindi vi invito a scaricare il programma dal link in descrizione Vi invito a mettere like al video, a commentare e a iscrivervi al canale Per questo video è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Grazie